Buongiorno, siamo qua con Enrico Ferrarese, sindaco di Stienta e neoeletto presidente della provincia di Rovigo, forse perché c'è stato qualche problema. Ci puoi spiegare quello che è successo? Adesso non c'è la proclamazione, però sono qui per dirvi quelli che sono i risultati per come sono usciti dallo spoglio, che è stato concluso. È stata messa a verbale un'anomalia che riguarda una scheda, però i numeri ci sono. Infatti i numeri ci sono, mi pare di aver capito che siamo intorno al 70%, un calcolo un po' approssimativo, però i numeri parlano in questo senso, la percentuale dovrebbe essere più o meno quella. Adesso c'è lo spoglio in questo momento in alto per le liste e i consiglieri, che squadra si aspetta di trovarsi? Oddio, speriamo che sia andata altrettanto bene, ho fiducia, insomma da un certo punto di vista sappiamo che la proposta, il progetto era unico, lista e presidente. Quindi insomma, di là delle magari piccole, penso differenze che ci potranno essere, mi aspetto un risultato in linea, tutto o meno. Grazie a voi.